Come ci ha ricordato anche il sacerdote, cercheremo di fare luce su quello che è successo. Come rispondete alla richiesta di giustizia? L'abbiamo sempre avuto come nostro unico obiettivo, quindi continueremo su questa strada. Ora vi ringrazio, ma oggi è un giorno di silenzio e di riflessione per tutti e di grande emozione. Grazie a tutti.